Siamo a Bursley, South Yorkshire, e il 6 di settembre del 2018, un giovedì qualunque. Sono le 6 e 50 del mattino quando una donna saluta suo marito per recarsi al lavoro. L'uomo ricambia mentre si prepara per fare la sua solita corsa mattutina, ma non lo rivedrà mai più. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mille e questo è Mild True Crime. Il mio contributo per ricordare le vittime di violenza è imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. Per il caso di oggi vogliamo in Inghilterra, più precisamente a Bursley, nucleo urbano che registra un censimento di circa 244.000 abitanti nel 2020, nella contea del South Yorkshire, il cui centro viene descritto come vibrante ed eclettico per le svariate attività possibili, come cultura, shopping, sport e tanto altro. Nel villaggio di Silkstone, Common, vivono i coniugi Dean, Gary e Caroline, entrambi nati negli anni 70 ed entrambi originari della stessa area, figli unici di famiglie rispettabili della zona, conosciuti e integrati nella comunità. Hanno sempre condotto una vita tranquilla e ordinaria. Corre l'anno 2016, la vita coniugale della coppia procede nel modo migliore possibile, insomma, è una coppia tranquilla e innamorata, rispettosi l'uno dell'altro. Caroline è impiegata come preside presso la Hanengley Primary School ed è soddisfatta ed entusiasta del suo lavoro a contatto con i bambini. Gary, lui, non ha un impiego, la sua è una condizione particolare, ha il disturbo dello spettro autistico. Questo gli rende impossibile intraprendere qualsiasi attività lavorativa. È un grande appassionato di corsa, bicicletta e modellismo ferroviario, nello specifico di treni diesel. Queste tre attività lo assorbono completamente, ma la priorità per lui è sempre la corsa. Infatti corre diverse maratone ed è membro del club Penningstone Foot Pet Runners. Gary è solito allenarsi tutte le mattine, di buon'ora. È un abitudinario e non c'è giorno che non si ripeta la solita routine. La sveglia suona alla solita ora, la coppia si sveglia, si prepara, scambiano qualche parola e Caroline prepara la colazione. Solitamente dei sandwich che Gary consumerà a ritorno dal suo allenamento. Mentre Caroline impacchetta il cibo e alle ore 6 e 50 minuti saluta suo marito con un bacio ed esce di casa per recarsi alla scuola. Poco dopo Gary ascolta il rumore del motore dell'auto di sua moglie che si allontana e quando scompare completamente lega i lacci delle scarpe ed esce di casa chiudendo la porta chiave e inizia così la sua corsa. Vi starete chiedendo cosa può succedere ad una famiglia del genere? Ebbene, è proprio da questo momento che iniziano i problemi che sfoceranno nel disastro peggiore che si possa immaginare. Dovete sapere che Gary durante le sue corse ha dei comportamenti bizzarri. Ad esempio si ostina a passare all'interno di un campo di proprietà. Certo può farlo perché c'è il diritto di passaggio, ma per qualche motivo difficile da spiegare, che per lui però ha un senso, costruisce degli spaventapasseri dall'aspetto simpatico. Ci sono anche altri comportamenti decisamente più irritanti, ma è un villaggio. Le persone che ci vivono hanno imparato a conoscere Gary, accettano tali atteggiamenti perché sono al corrente delle problematiche dell'uomo e nessuno si mostra intollerante, anzi sono amichevoli con la coppia nonostante l'antisocialità di Gary. Un giorno Caroline nota dei fogli appoggiati sul tavolo. Quando li prende in mano e legge cosa c'è scritto, trasale. È una diffida a carico di Gary. Sul documento c'è scritto che l'uomo ha provocato ingenti danni alla proprietà di Carol e Scott Dawson, con la rottura della finestra di un capannone agricolo e la distruzione di un recinto per maiali. È stato fisso un cartello di divieto e non gli è assolutamente consentito l'accesso. Gary non dà molte spiegazioni e lei sa di non dover insistere per non farlo innervosire. Ma chi sono Carol e Scott Dawson? Allora, Scott ha 39 anni, è proprietario di diversi terreni, agricoltore e allevatore di maiali e vive ad Allot Court. Carol invece è sua mamma, una pensionata di 70 anni che viva a Stonewood Grove. Si può dire che siano vicini di casa, visto che la distanza massima tra loro è di 13 chilometri scarsi. Ma Caroline fino a quel momento non ne aveva mai sentito parlare. Tuttavia sospetta che tra Gary e Dawson si fosse aperta una diatriba, già da un pezzo, per arrivare addirittura a fargli notificare una diffida. Per qualche tempo sembra tornare la quiete. Caroline si tranquillizza credendo che Gary semplicemente avesse smesso di passare da quella strada per i suoi allenamenti. Verso la metà di quell'anno Caroline, che nel suo ufficio, riceve una telefonata di suo marito che in preda al panico non fa che ripetere di tornare a casa subito. Quindi spaventata esce dalla scuola e vi si dirige a gran velocità. Quando arriva Gary è seduto sull'uscio e si tiene la testa tra le mani. Non parla, ma gli si legge la rabbia negli occhi quando le indica di entrare in casa. E quando lo fa rimane inorridita. Dalle scritte a bomboletta spray con cui sono stati imbrattati i muri. Sono insulti e impregazioni. Gary continua a ripetere che sono stati Dawson. Si è fretta dunque a chiamare la polizia, ma quando arrivano e lei gli parla dei loro sospetti, questi le fanno presente che non hanno alcuna prova e che l'unica strada possibile è quella di una denuncia contro i gnoti. In quell'anno inizia una vera persecuzione ai danni della coppia. Una mattina a Caroline si ritrovò anche la macchina imbrattata con delle scritte. Stai lontano, Buzz. Qui mi scuso ma non sono riuscita a trovare la traduzione di Buzz. Credo comunque che sia un insulto. E anche p***o, pedofilo. E di nuovo denuncia i fatti. Una notte addirittura quattro uomini fanno irruzione in casa e gridano dove sei sporco strato. Picchiano entrambi procurando a Caroline la frattura del naso. A questo punto la polizia inizia a tenere d'occhio i Dawson. Tuttavia non ci sono mezzi regali per fermare questi veri e propri attacchi, sempre per l'assenza di prove. Pare che Gary a questo punto stia continuando e semmai calcando la mano con i suoi dispetti ai danni dei Dawson e si apre una vera e propria faida tra le due famiglie, fatta di denunce e persecuzioni da parte di entrambi. Alla fine del 2017 la scuola dove lavora Caroline riceve una lettera anonima. All'interno c'è scritto che è dovere della scuola proteggere i bambini. La preside è sposata con un pedologio. Deve essere allontanata immediatamente e licenziata perché suo marito è stato visto addentrarsi nel bosco in atteggiamento sospetto accompagnato da dei bambini. Viene fatta immediatamente un'indagine di salvaguardia da parte delle autorità. Ovviamente non viene trovata alcuna prova a carico di Gary ma la situazione si sta facendo drammatica. All'inizio del 2018 i Dawson acquistano un terreno vicino al Transpending Trail che è un bellissimo parco che passa tra boschi e ruscelli. È un investimento importante per loro, un progetto a cui tengono molto. Mahimè, è anche il percorso che Gary fa tutte le mattine. E anche qui è solito piazzare i suoi spaventapasseri. Gli umori si inaspriscono oltremodo. Anche qui c'è un diritto di passaggio e Gary si intestardisce letteralmente a passarci creando problemi e facendo piccoli dispetti ai Dawson. Continua la faida, colpi di denunce e nessuno è intenzionato a mollare, a lasciar perdere. La polizia non sa come intervenire. Gary è un uomo con problematiche particolari. Non è neppure cosa certa che sia stato l'artefice degli atti vandalici del 2017 quando è stata emanata la diffida. Ci vuole solo pazienza, tolleranza, ha le sue ossessioni e abitudini che vanno semplicemente ignorate. Così come sta facendo l'intero villaggio. I Dawson, presto o tardi, lo capiranno. Questa era letteralmente la posizione che aveva preso la polizia. Il 5 settembre del 2018, Gary compie l'azione peggiore che abbia mai commesso nella sua vita. Per la prima volta i suoi dispetti diventano davvero tanto provocatori. Mentre passa dal solito terreno vicino al parco, l'uomo appicca un piccolo incendio, nulla di grave. Non rischia di propagarsi né far danni a cose o persone. Un piccolo fuoco che è però la miccia di una bomba che esploderà tragicamente. È il giorno 6 settembre. La giornata inizia come sempre, con la rassicurante routine dei Dean. È tutto a posto, niente scritte, la macchina sul vialetto è intatta, i coniugi stanno bene e si salutano per darsi il buongiorno. Si preparano, si vestono e Caroline prepara i sandwich. Prima di uscire di casa, corre a dare un bacio a Gary, che le sorride. Lei esce, avvia il motore della macchina e si allontana. Poco distante sulla house car lane, nota la macchina di Carol Dawson, una Tiguan. È lì, parcheggiata. Pensa che sia molto strano, ma prosegue senza dare troppa importanza alla circostanza. Intanto Dean ha iniziato la sua corsa e si avvia verso il solito percorso. Chissà a cosa sta pensando. Presto è prevista la maratona e lui parteciperà col suo club. Serve tanto allenamento. Quando arriva alla fine del terreno dei Dawson, sente un lancinante dolore alla schiena. Capisce subito che quelli sono colpi di proiettile. Qualcuno gli sta sparando e Gary, nonostante sia già ferito, corre. Raggiunge a gran fatica l'imbocco del parco. Sentendosi braccato da qualcuno che lo rincorre, si butta dentro un fossato e appoggiandosi alle sponde cerca di allontanarsi più in fretta che può. Ma viene continuamente colpito da qualcosa di pesante. Rami, pietre. Esausto. Così si ferma. Finché qualcosa di talmente pesante lo colpisce alla testa da una distanza ormai ravvicinata. Gary muore all'età di 48 anni. Così, in un fosso, da solo, in una pozza di sangue, col cranio fratturato. Quando Caroline rientra dal lavoro nel tardo pomeriggio, ha subito un forte presagio. I sandwich sono ancora intatti sulla cucina. Regna un silenzio surreale. Gary non c'è ed è troppo strano. Questo non fa parte della sua routine. È successo qualcosa. La donna avvisa subito la polizia che, vista la situazione, si attiva subito per cercare Gary. Nel frattempo, Caroline si attacca al telefono e lo chiama ripetutamente. Scende la notte e l'angoscia si fa sempre più pressante. Alle prime ore dell'alba, Caroline ricomincia a telefonare a Gary. Il telefono dell'uomo è attivo, squilla, quindi lei continua in perterrita. Nel parco di Transpenning sta camminando un uomo, un dog sitter, che sente lo squillo del cellulare. Si avvicina al fossato e capisce subito che lì c'è un corpo senza vita. Chiama immediatamente le forze dell'ordine. Finisce così la vana speranza di Caroline, quando un agente si presenta alla porta della casa. Il suo Gary, quell'uomo così particolare e fragile, che è tanto amato e tentato di proteggere, non c'è più. E ora, tempo di indagini. Alla guida della squadra investigativa, c'è l'ispettore Mark Upton, che in effetti prende subito seriamente le dichiarazioni di Caroline e le sue accuse nei confronti di Carol e Scott Dawson, compreso l'avvistamento della Tiguan la mattina del 6 settembre, che subito l'aveva insospettita. In effetti, la polizia aveva già in mano uno storico di denunce. Nel frattempo viene eseguita l'autopsia sul corpo del povero Gary, che rivela la morte per trauma cranico. Avevano trovato diversi proiettili molto particolari sulla schiena e ferite multiple al volto, inferte con rami e pietre di grandi dimensioni. Avevano dunque stabilito che l'attacco era iniziato con l'utilizzo di un fucile ad aria compressa, con una buona potenza e a distanza ravvicinata. Dai rilevamenti sulla scena avevano potuto constatare la ferocia dell'attacco iniziato diversi metri prima dal luogo del ritrovamento del corpo. Quindi era chiaro che l'intenzione non era intimidatoria, ma volta ad uccidere. Madre e figlio vengono quindi immediatamente attenzionati e interrogati. Vengono mostrati e ascolti i proiettili rinvenuti sul corpo di Gary, ma l'uomo risponde di non possedere armi, di non intendersene e di non sapere che tipo di proiettili possano essere. Si dichiarano entrambi estranei ai fatti. Non hanno un valido alibi per la giornata del 6 settembre. Vengono sequestrati telefoni e immediatamente viene individuato un contatto recente molto sospetto, che infatti risulta essere il numero telefonico di un collezionista di fucili ad aria compressa, che ammetterà di averne venduto uno a Scott, solo un paio di mesi prima dell'omicidio. Viene quindi presa in considerazione la premeditazione. Vengono poste un po' di domande anche ai vicini di casa di Carol e molti di loro dichiarano di aver visto la donna intenta fare una dettagliata pulizia della sua macchina il giorno 7 di settembre. Aveva insistito parecchio sul lato passeggero, utilizzando diversi prodotti specifici per la pulizia e ben due bidoncini aspirapolvere. L'ispettore ottiene in breve tempo il mandato di perquisizione di entrambe le case, ma non si trova e mai si troverà il fucile ad aria compressa. Nella casa di Carol trovano un taccuino pieno di appunti di estremo interesse che diventerà prova schiacciante nel processo, in quanto i due si erano appuntati le varie fasi degli interrogatori. Appunti utili a loro per evitare di cadere in contraddizione. Solo che Scott aveva scritto l'esatto calibro dei proiettili, informazione unicamente in possesso dalla polizia. Tra l'altro ne vengono anche trovati in casa. In seguito il taccuino viene analizzato dal grafologo Forense per fare un confronto con la lettera anonima recapitata a suo tempo alla scuola. Le grafie risultano identiche, senza alcun dubbio. Quel biglietto lo aveva scritto Carol. Nei cassonetti della spazzatura ad uso esclusivo di Carol erano stati trovati tutti i prodotti usati per la pulizia dell'auto. Nella casa di Scott, invece, erano stati trovati i due aspirapolvere. Era stato analizzato il loro contenuto e anche in questo caso erano state trovate prove incriminanti. Probabilmente caricare Scott sporco di sangue, fogliame e chissà che altro aveva lasciato diverse tracce riconducibili al luogo del crimine e ovviamente allo stesso sangue del povero Gary. Madre e figlio vengono dunque arrestati con l'accusa di omicidio nel luglio del 2019. Inizia il processo presso Sheffield Crown Court. Gli avvocati della difesa, Kent e Ryder, provano ad ottenere degli sconti di pena facendo leva sui comportamenti irritanti di Gary, ma questo gli si ritorcerà contro risultando semmai essere un aggravante. E anche sull'assenza di precedenti penali, anche questa argomentazione risulta essere debole. Insomma, ci sono talmente tante prove di premeditazione e della cattiveria impiegata per compiere quella che è stata ritenuta una vendetta, da non lasciare alcun dubbio alla corte. Ricordate anche l'avvistamento di Caroline della macchina di Carol Dawson, appostata lungo la House Car Lane. Anche questa era una prova di premeditazione e di una precisa organizzazione. Il procedimento dura 5 settimane, al termine il giudice Jeremy Richardson emette la sentenza per i due imputati. La pena per Scott, con accusa di omicidio premeditato, è l'ergastolo con un minimo di 31 anni più 179 giorni in caso di rivalutazione. Per Carol, per concorso in omicidio premeditato, la pena è di 26 anni più 179 giorni, ma vista l'età avanzata rivalutabile a discrezione del segretario di Stato. Vi leggo un piccolo passo dell'atto processuale che rende l'idea di quanto la vendetta sia stata il nocciolo della sentenza. E cito Entrambi avete considerato Gary Dean molto negativamente. Invece di cercare di capire i suoi problemi e di affrontarli come avevano fatto gli altri, avete dato inizio a una vendetta. Ciò ha comportato la diffusione di voci davvero spiacevoli e l'avvio di un processo di intimidazioni mirate nei suoi confronti. Avete presentato ripetute denunce alla polizia stradale. Il contenuto di quelle telefonate, tutte riprodotte per la giuria, hanno dimostrato la vostra natura maliziosa e i vostri atteggiamenti irragionevoli. È chiaro che abbiate ritenuto che la polizia non stesse facendo abbastanza. Alla fine la polizia avviò un procedimento giudiziario contro Gary Dean. Fallì e fu assolto. Ho seri dubbi sul fatto che avrebbe mai dovuto iniziare. I magistrati però hanno giustamente assolto Gary Dean. Io nutro reali riserve sul fatto che fosse giusto adottare un ordine restrittivo contro di lui, cosa che è avvenuta. È chiaro che durante l'estate del 2018 avevate intenzione di farvi giustizia con le vostre mani, dato il fallimento, come avete creduto, delle autorità nel prendere azione. Comunque, questi due non proferiscono parola per tutto il processo né mai rilasciano alcuna dichiarazione. Non hanno mai mostrato emozioni né segni di pentimento. È sconvolgente. Ovviamente Caroline è una donna distrutta e dichiara più volte di essere perseguitata dal dolore per la natura brutale e violenta della morte di Gary e che per lei è inimmaginabile la paura e il terrore che deve aver provato mentre veniva picchiato a morte. Nel 2019 presso il Club Peniston Footpet Runners viene intitolata una targa in memoria di Gary e la medaglia premio Gary Dean che viene assegnata il 17 marzo al vicitore della maratona Kate Gordon a cui povero Gary avrebbe tanto voluto partecipare. A consegnare il premio sarà proprio Caroline Dean. Come sempre io sono basita e davvero, davvero senza parole. Mi chiedo come ci si possa canire in questo modo con una persona indifesa, fragile. Spero che abbiate trovato interessante questa storia che vi abbia fatto riflettere. Se vi va scrivete qui sotto nei commenti la vostra opinione e sempre se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. 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 Ciao.